Riviera in festa, due giorni di festa a Montesilvano a cavallo della Pasqua, ma anche novità per quanto riguarda il traffico in centro cittadino. Assolutamente sì, il lunedì Pasqua è la prima di una lunga serie di chiusure del lungomare, che noi abbiamo inteso sull'onda del successo ottenuto lo scorso anno durante il periodo estivo, abbiamo inteso portare avanti anche per questa primavera. Il lunedì Pasqua partiremo con una biciclettata, ma anche le successive domeniche, a partire dal 3 aprile a finire l'ultima domenica di maggio, vedranno il lungomare allestito a festa. Allestito a festa nella misura in cui noi abbiamo inteso ogni domenica dedicare questo bel contenitore ad un tema specifico. ci sarà una giornata dedicata agli animali, una giornata dedicata agli scout, al mondo scout, una giornata dedicata alla solidarietà, una giornata dedicata alle forze dell'ordine. Insomma abbiamo inteso regalare alla città un momento di svago, ma anche di godibilità e fruibilità di quella che poi è l'area più turistica della città, che è quella del lungomare. Per quanto riguarda invece la chiusura della riviera alle auto, si andrà avanti per due mesi? Sì, si andrà avanti per due mesi, prettamente però nel giorno della domenica, in cui si truderà per il mese di aprile dalle 8.30 alle 13.30, mentre nel mese di maggio si protatterà la chiusura dalle 8.30 fino alle 18.30.